A ballare, a ballare, a ballare, il mio amico troppo, con due anni, è meglio, è meglio, signor Sadamassetto, ha funzionato il mio amico e la cento e quattro anni, però, qualcosa di buono ci avrà, Quanta nottina bella, con due stregni a testo e braccio, con due vasi che si abbracciano, venga con l'abbraccio a me, ma più belle, più bella, non è mai più belle, Ci rivolgiamo sopra di noi ai maschietti, che poi indirettamente sono coinvolte le donne, Maschietti, se non ho usato le mani, voi non ho usato niente più! Chiaro, piaci, s'andarita, andrete da rasso, aizia, 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 aizia! Chiaro, piaci, s'andarita, andrete da rasso, aizia, 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 aiz Avrei un pò con i soldi Allora io so che quest'ora di essere fin là sono stato distratto dalla Signoria di Vinopullat Volevo fare un finale Trasgressivo Però no Non mi è venuta la cosa Ma subito Però qualcuno Ha sentito che ha detto Sono bravi quelli a suonare Solo il cantante Pezzotto Non è vero Qualcuno l'ha detto Io vi dimostrerò stasera Che non sono un pezzotto